Buongiorno tesori, buongiorno, guarda vi faccio vedere l'altra parte del Stagio delle Alpe che noi abbiamo visto prima, vi faccio vedere così, guarda, questa, guarda che bello, guarda, 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 stagio delle Alpe, Torino, Juve, stagio delle Uve, stagio delle e la Uve, un quadri lavoro, una passeggiata in l'autobus fuori del Stagio di Malone. Luce è una fermata. adesso andiamo avanti così vedete anche questa parte guarda che bello adesso qua con il lavoro ok e partiamo guarda che bello 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 Grazie a tutti.